amici e amiche della voce del diavolo del canale youtube milan e lo ben ritrovati come voleva si dimostrare la situazione è grave la situazione non so da che parte si possa o si debba cominciare da pioli dai giocatori dalla società da comunque a qualunque parte la metti la situazione ma comincerei quindi dal problema dei problemi che dico da sempre me ne darete atto spero che me ne diate atto la proprietà del milan la proprietà del milan e dicono redbird insomma in realtà dietro il mio dietro il famoso passaggio da yongong li dietro quel passaggio ancora di berlusconi dietro il passaggio di cardinale a cardinale a gerry cardinale a redbird c'è sempre lo stesso eliot eliot un fondo questo fondo lo stesso fondo gli altoparlanti del milan giornalisti a cui va sempre tutto bene tifosi che non vedono non vedono la situazione tutto il resto sono stati contenti di eliot sono contenti di eliot che ha sistemato i conti vero eliot fa una cosa benissimo due anzi sistema i conti senza guardare in faccia a nessuno e vince le cause perché ha degli studi legali il top al mondo ha fatto causa è stato citato in giudizio tantissime volte in tutto il mondo e ha praticamente sempre vinto ha risolto diciamo così alcune situazioni economiche imbarazzanti senza guardare in faccia nessuno e fino qui è tutto perfetto peccato che adesso stia facendo tutto questo sulla pelle del milan del milan inteso come squadra e ma cosa vuoi con eliot e tornata in champions il milan con eliot abbiamo vinto un campionato stupendo vero non si può dire niente ma rientrare in champions e vincere un campionato stupendo dovrebbe essere un punto di partenza non un punto di arrivo no pochi giorni fa è stato presentato il bilancio del milan e il milan è l'unica squadra italiana con un forte utile con un patrimonio netto forte attivo un grosso avanzo di patrimonio netto situazione idillica specialmente visto come si è partiti situazione degli ingaggi ammortamenti molto buona ammortamenti molto buona tutti gli indicatori economici veramente buoni ma ma tutto questo a scapito del milan a scapito della squadra anche il fatturato è aumentato quindi complimenti ma non puoi tirare troppo la corda non puoi e infatti la corda si è rotta la corda si è rotta hai chiesto o il tuo allenatore ti ha detto non ti preoccupare ci penso io ci penso io a far giocare bene in mina li faccio correre più degli altri si rompono tutti ma no ci penso io con i miei preparatori i miei mio staff a sistemarli tutte le recidive tutti i giocatori rotti tutti infortuni molto lunghi addirittura qualcuno sotto i ferri signor pioli ah ma non ti preoccupare ci penso io metto in campo una situazione tattica nuova che sorprenderò tutti mi ha visto come siamo stati sorpresi in cinque derby abbiamo visto come siamo stati sorpresi a passare la difesa a tre in un modo scelerato abbiamo visto come siamo stati sorpresi a passare a 4 4 2 come dire sconfessando tutto ciò che si è seminato abbiamo visto soprattutto i giocatori totalmente persi totalmente persi calabria che ha protestato chirier che ha protestato leao che ha protestato giro totalmente imbarazzato così e alcune voci vocine non ho le prove dicono che lo stesso teo erlandez abbia avuto un forte alterco con il co allenatore con pioli e quindi non si è entrato in campo contro l'udinese a gennaio scorso c'era stato problemi enormi problemi enormi di spogliatoio di conduzione dei rapporti tra pioli e maldini cosa ha fatto eliot ha fatto fuori maldini che ci può stare ma ha tenuto pioli ha tenuto pioli anche perché aveva un contratto lungo ecco ha voluto fare così è stato promosso pioli non è stato messa nessuna figura esperta nel milan non è stato affiancato pioli da qualcuno che potesse con cui potesse avere una disamina tecnica è stato promosso pioli pioli non è in grado di essere promosso non lo è è un allenatore modesto medio normale bravo ma per un altro milan per quel milan preso in un certo con un certo momento preso il dopo il dopo giampaolo andava bene pioli non per questo milan che doveva fare il salto di qualità invece come il gambero come il gambero e poi la società la società questo moncada che fa il direttore sportivo non lo so però è uno scout talent scout niente altro questo furlani che un ragazzo un ragazzo con bellissimo curriculum studentesco con un bel curriculum manageriale presso presso eliot portfolio manager ma cosa c'entra questo con gestire il milan cosa c'entra può gestire conti bravo complimenti ma dov'è la figura esperta anche di calcio che figuraccia fatto il signor furlani per l'acquisto di taremi e ma anche gli altri le fanno e ma anche gli altri hanno gli infortuni e ma anche gli altri sia belli anche gli altri fanno qualche errore certo ma ma gli altri hanno dei giocatori veri hanno il lautaro davanti hanno insomma ci si può sbagliare ma non ci si può in caponire però pensano di poter vincere i campionati o comunque di fare bene in champion senza centravanti facendo giocare sempre quel poveretto di girù e negli ultimi anni che hanno preso prima ibra l'hanno preso a 38 anni poi girù l'hanno preso a 35 anni non hanno mai investito veramente non serve presto questi giocatori da 15 20 milioni l'unico che hanno speso un po di più decatela però poi per un motivo per l'altro colpa sua colpa di pioia non ha fatto niente l'unico ma comunque non era una sicurezza sicuramente decatela era un giocatore giovane che giocava nelle bruci doveva venire albina e vedere di dimostrare e non l'ho fatto ma dov'è il centravanti hanno avuto delle belle intuizioni hanno preso magnan per l'amore di dio tomori buoni giocatori buoni giocatori secondo me pulisic quest'anno è buono love to stick se non si rompe buono ma non hanno preso i giocatori veri soprattutto io direi non hanno preso lukaku non hanno preso lukaku che era lì ti lo davano gratis in prestito poco più che gratis ma poi abbiamo un ingaggio alto gli altri sarebbero lamentati ebbene e si è visto come non si stanno lamentando gli altri mi riferisco ai teo hernandez mi riferisco appunto ai girù mi riferisco a leao non si stanno lamentando certo che si stanno lamentando perché quando poi il milan quando si va male quando è così si va male il milan è andato bene all'inizio ma è correa più degli altri si è visto no correva giocava bene benissimo però correa più degli altri tempo 6 7 partite sono saltati e adesso arranchiamo adesso basta un dinese a metterci in grande difficoltà in grandissima difficoltà non ha voluto non ha voluto risolvere prima degli infortunati perché perché non ha voluto risolverlo perché questo vuol dire poi far fuori pioli e fai fuori pioli e fai fuori più lei chi metti ma non lo so chi metti non lo so io metterei conte ma non arriverà conte ma metti qualcuno così non puoi andare avanti come non si poteva andare avanti con pioce con giampaolo cioè quando si vede quando l'allenatore non ha più in mano la squadra ma il guaio che non c'è nessuno questi sono stati contenti del bilancio che hanno fatto contentissimi hanno portato a casa il loro bonus che è la cosa che gli interessa di più e a fine a giugno faranno un consultivo per vedere com'è andata quest'anno e poi decideranno e no e c'è un campionato e c'è un campionato che che quelli soliti altoparlanti ci dicono ma non vedi milan alla fine è davanti all'inter alla fine è un punto dall'inter alla fine è a due punti dall'inter ma cosa vuoi che si è a tre punti dall'inter adesso ma alla fine e a sei punti dall'inter andiamo avanti gli arrivati ma non segniamo neanche per sbaglio ma non segniamo neanche per sbaglio tre partite in champions zero gol con l'udinese zero gol dai dai e prendiamo sempre il gol ma per favore ma per favore il problema vero e chiudo e chiudo io l'avevo detto io l'avevo detto e mi hanno massacrato su questo io l'avevo detto a maggio di due anni fa preferirei non vincere quello stupendo campionato ma avere la certezza che eliot se ne andasse e arrivasse in vesco allora avremmo avuto tutto un altro milano tutto un altro milano tutta un'altra prospettiva non è stato così tutti a festeggiare elio bravo elio complimenti tutti a indeggiare tutti a dire ma questi quasi ma se tu che sei pessimista ma se tu come non vedi di qua di là di su di giù io vi dico fosse arrivato in vesco avremmo una prospettiva oggi la nostra unica prospettiva è continuare col bilancio in attivo fare lo stadio e tutto per poi essere venduti e così eliot incasserà oltre i 400 milioni che si è già messo in tasca altrettanti 400 600 milioni e vivranno felici contenti nel frattempo a noi ci tocca soffrire grazie a tutti ciao